Questo in realtà non è il video che avevo preparato per oggi, stamattina avevo filmato un video in cui vi spiegavo perché mi sono presa una pausa dal canale, perché probabilmente non sarò molto costante nella pubblicazione dei video. L'ho anche editato, già caricato sul canale eccetera, però ci ho pensato, cioè mi sono ritrovata a pensare se volessi veramente pubblicare quel video, perché in quel video davo appunto delle spiegazioni, facevo riferimento ad una situazione che a me pesa tanto, che mi ferisce e mi riferisco ad una situazione molto negativa che mi circonda. E stavo pensando che pubblicando quel video è come se la dessi vinta a quelle persone che mi hanno fatto star male e io non voglio che vincano. Mi è passato poi sotto gli occhi una frase, ovvero che non possiamo controllare il modo in cui le altre persone ci trattano o quello che le altre persone fanno o ci dicono, ma possiamo invece controllare la nostra reazione di fronte a queste azioni, a queste parole. E mi rendo conto di aver fortemente sbagliato, ovviamente sono umana quindi può capitare di sbagliare. Ho lasciato veramente troppo spazio e troppo potere a questa situazione, a queste persone, li ho lasciati vincere in un certo senso e se avessi pubblicato quel video sarebbe stata una grande sconfitta per me. In parole povere, io dal 24 di dicembre ad oggi ho pubblicato un solo video, un'ultima lettura che trovate linkato in descrizione nelle schede, perché non mi sentivo più motivata. Attorno a me c'è una situazione molto negativa che non mi permetteva di concentrarmi sul mio lavoro. Io mi impegno sempre tantissimo con Cbiz The Way, cerco sempre di proporvi qualcosa di nuovo, originale o almeno di dare la mia impronta. C'è tanto lavoro dietro anche a contenuti molto semplici. E vedere che non mi è riconosciuto questo lavoro in particolare dalle persone che mi seguono e dai miei colleghi, diciamo, fa veramente male. Fa male vedere i miei contenuti riproposti, copiati spudoratamente o vedere che altre persone ripropongono dei miei format senza minimamente citarmi. È avvilente per me, veramente. E mi fa molta rabbia, mi ferisce principalmente. Quindi ho deciso di prendere le distanze dal canale, dal fare i video per questo motivo. Non sono in realtà sparita, non ho smesso di leggere e condividere la mia passione. Per fortuna non mi sono lasciata battere in questo. Su Instagram continuo ad aggiornarvi praticamente ogni giorno, a cercare di proporvi sempre qualcosa di nuovo. E mi piacerebbe continuare anche qua sul canale. Magari non sarò subito costante come prima. Cercherò comunque di fare dei video quando mi sentirò appunto nel modo giusto, quando avrò riacquisito tutte le energie positive necessarie per proporvi qualcosa di buono. Anzi, qualcosa di ottimo, che per me sia il massimo che io posso dare in quel momento. A parole è sempre molto più facile che a fatti, devo essere sincera. Non so bene che cosa sia scattato in me, ma sono contenta di non aver pubblicato il video di stamattina. Riguardandomi ero molto triste, molto amareggiata. Parlavo anche del fatto che forse non avrei più fatto video, che è una cosa che ogni tanto mi viene in mente. Perché questa situazione che ho attorno è veramente triste e mi chiedo perché mi impegno così tanto e dedico così tanto tempo, così tante energie e lavoro per un progetto che importa ed è utile, tra virgolette, soltanto per me. Sembra che la mia voce non conti nulla in questa community. Ma in realtà è quello che vogliono farmi credere alcune persone. Quindi io sono contenta fin tanto che c'è qualcuno che mi ascolta, che mi guarda, che è disposto soprattutto al confronto. Perché questo è secondo me lo scopo di questa community. Quindi non voglio lasciarmi frenare da piccoli episodi e spesso mi faccio buttare giù troppo facilmente. Questo è vero. Però è vero anche che è difficile rimanere motivati e rimanere attivi e avere un certo stimolo nel fare delle cose se si è da soli. Io sono una persona tendenzialmente tranquilla. Non litigo con nessuno, non faccio polemiche, sto nel mio, non vado a criticare gli altri. Però nonostante tutto sto antipatica a tante persone. Quindi mi ferisce, mi ferisce essere trattata come la persona che non sono. Però vabbè, come dicevo, non possiamo controllare quello che pensano gli altri di noi, le azioni degli altri. Possiamo gestire e controllare solo negli stessi. Detto questo, sto lavorando la postazione eventuale di prossimi video. Per adesso ci sono le piantine e Jason. Oh, non vi ho presentato Jason. Jason è il pezzo forte. Sarà il pezzo forte della mia nuova postazione video perché è tipo il mio gatto. Io non ho i gatti miei qui nella casa nuova. Ho solo Jason, quindi l'ho tratto come se fosse il mio animaletto domestico. E vorrei che facesse parte nello sfondo dei video. Vabbè, scemenze a parte. A inizio mese, proprio i primissimi dell'anno, avevo filmato un video in cui vi mostravo come decoravo l'agenda. È un video che avevo realizzato senza audio perché in quel momento mi sentivo troppo giù. Però mi piaceva l'idea di filmarmi mentre impostavo l'agenda per il nuovo anno. Quindi l'ho fatto principalmente per me, per rivedermi. Però penso che possa essere interessante da condividere. Ho fatto una piccola aggiunta questa mattina, una sorta di intro per contestualizzare quello che poi vedrete. Perché come ogni anno mi piaceva l'idea di proporvi un come mi organizzo. Per farvi vedere come ho intenzione di impostare la mia agenda e tenere traccia di tutti i miei appuntamenti personali, lavorativi e soprattutto le finanze. E niente, questa è un'anticipazione. Ma sì, tanto questo è un video chiacchiericcio, un po' così. Non avevo in programma di girarlo in realtà. Però, a niente, è anche bello così. Io vi saluto e ci vediamo presto. Ciao! 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 Ciao!